Rivalità ataviche ed esigenze più stringenti di classifica rendono il match tra Fortitudo e Forlì un appuntamento irrinunciabile, una sfida che può segnare in maniera indelebile il cammino di queste due formazioni. Sul parquet di Bologna infatti si ritroveranno l'una di fronte all'altra la capolista quasi inarrestabile di questa due al cospetto di una squadra, quella di coach Giorgio Valli, che insegue a distanza di quattro lunghezze dalla prima posizione. Fortitudo sempre vittoriosa davanti al proprio pubblico sino ad ora. Espugnari Paladozza sarebbe impresa da scrivere immediatamente negli annali per i biancorossi, cancellando così l'onta della pesantissima sconfitta patita nella sfida diretta contro l'altra grande pretendente alla vittoria del campionato, il meno 32 di Treviso. Sarà proprio l'impatto col muro bianco-blu il primo ostacolo da abbattere per Forlì, che poi dovrà vedersela contro un team ottimamente allenato. Coach Antimo Martino si è inserito nel migliore dei modi nell'ambiente della F scudata, anche se l'unieuro di questa stagione sembra avere tutte le carte in regola per poter mettere in difficoltà i felsinei, a cominciare dalla coppia di americani Johnson e Lawson, quest'ultimo già mattatore della Fortitudo quando trascinò in Serie A la Virtus, sino a Jacopo Giacchetti e gli stessi Marini e De Laurentiis. Variabili impazzite di una sfida che catalizzerà tutte le attenzioni di questa tredicesima giornata di campionato.